Ho appena fatto l'upload di un video sul mio canale, che è questo, Notebook LM. Come vedi, ancora non ho scritto la descrizione, non ho scritto niente. Ho usato semplicemente questo, che è una descrizione che praticamente parte su tutti i video e che ho inserito all'interno di YouTube tramite questo pulsante. Guarda, vado su Impostazioni, vado su Impostazioni predefinite, qua Informazioni di base, Descrizione. Questa è una descrizione di base che quando carico un video mi parte su tutti i video e poi posso eliminarla, posso lasciarla, eccetera. Però comunque non è questo quello che ti voglio fare vedere nel video, ma ho colto l'occasione per fartelo vedere. Quello che ti voglio fare vedere è questo. Ti dicevo ancora, devo inserire la descrizione e devo fare tutto. Però, però, quello che volevo mostrarti è in che maniera posso fare il timestamp, quello che viene, cioè i menu, i capitoli all'interno del video. Quello che dovrei fare cos'è? Dovrei aprire il video da un'altra parte e comunque andarmi a prendere tutti i momenti di questo video per poi riportarlo qua e quindi partire da 00, due punti, 00 e mettere intro, per esempio, e poi continuare, ok? Ora, come posso fare per renderla automatica questa cosa? Io ho appena uploadato il video su YouTube, quindi sulla piattaforma, però se io già vado su... no, scusa, mi ho sbagliato. Quindi, se vado qua, quindi nella descrizione, trovo mostra trascrizione. Ed eccola qua. Mostra trascrizione accanto ha già i secondi a cui appartengono le parole, giusto? Quindi, se io la copio tutta, vado su chat GPT e gli chiedo, con un prompt esattamente, di fare questo compito, lui lo fa egregiamente. Allora, questo è quello che ho scritto. Devo realizzare il timestamp per il video che ho appena pubblicato, ti incollo la trascrizione del video e come output vorrei il testo da incollare nella descrizione per far apparire i capitoli. Non fare capitoli troppo brevi e ottimizzare un lato SEO in modo da inserire parole attinenti allo script e soprattutto che sia veramente utile per l'utente. Adesso incolliamo la trascrizione del video e vediamo cosa produce. Ok, mi sta dando direttamente il codice da mettere. Per il video, vedi, parte da 0.00, introduzione, creare contenuti con l'intelligenza artificiale, presentazione del canale, blog, YouTube, newsletter e podcast, notebook LM di Google, panoramica e funzionalità, caricamento delle fonti su notebook, eccetera, eccetera. Quindi io lo copio tutto e lo vado a incollare all'interno della descrizione qua. Quindi levo questo. Ovviamente posso andare a modificare quello che mi interessa. Qui, per esempio, non è presentazione del canale, ma è presentazione mia. Quindi è la mia intro alla fine. Quindi potrei anche levare questo e lasciarlo tutto come introduzione e partire poi da notebook. Ancora non ho ottimizzato il video, ovviamente. Però già se ci entro, anche se è ancora non in elenco, cioè non è ancora pubblicato, e faccio passare questa ads, quindi vado su salta, puoi notare che già i capitoli sono belli e fatti. E quindi c'ho l'introduzione, c'ho notebook LM, Google, panoramica e funzionalità, ed è quello che sto facendo. Poi c'ho caricamento delle fonti su notebook LM, utilizzare YouTube e altri media come fonti. Insomma, praticamente ha realizzato dei capitoli veramente interessanti, analisi delle fonti, caricate, creazioni di note, organizzare fonti e note notebook LM, creazioni di scalette per video con la I. Insomma, ha creato un menu in pochissimi secondi e io ci sarei stato veramente un bel po', perché il video dura 17 minuti, quindi anche a saltare ci sarei stato almeno, almeno, almeno una decina di minuti. per realizzarlo, se non molto di più. Ok, volevo farti vedere semplicemente questo all'interno di questo video, seguimi, ci vediamo presto, ciao.